E non fai quella puttana vacca proia D'odale, cosa stai facendo? Sto facendo la doccia Allora, spiegaci il funzionamento della doccia cinese Allora, qua c'è il rubinetto dell'acqua calda Come potete vedere, si apre perfettamente il rubinetto dell'acqua calda E non esce niente Allora cosa si fa? Si chiama la siauge, 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 siauge Si chiama la siauge, si chi porta Due reti al cosi fuori, nel termos di acqua bollente Poi c'è la bacinella, che è la bacinella Mi sa, non sembra la reti, così si E poi ci si mette in tappo In modo che l'acqua calda rimanga molto calda E poi ci si lava, come tanto tempo fa Come nel periodo della guerra Eh, vediamo che adesso mi devo togliere, mi devo lavare le parti Ma io faccio una ripresa solamente del tuo primo piano Si, il primo piano, mi puoi dopo Tranquillo, tranquillo Tranquillo, tranquillo Stasera un super film E' grande Ah, mi devo Cosa mi fa sto lavando La saporezza, la fondamentale Ormai Era il gusto di pesce qua